Tempo di pay, ma quali sono le novità introdotte dal decreto interministeriale 153 del 2023? Novità da conoscere non solo per gli insegnanti a scuola ma anche per i candidati al concorso docenti su posto di sostegno, al TFA di sostegno o impegnati nell'anno di prova. Intanto un caloroso ben ritrovati agli iscritti su diversi tutti e naturalmente anche ai nuovi. Se vuoi diventare insegnante in particolare di sostegno ti invito a iscriverti ai nostri corsi per il concorso e per il TFA con il mio metodo di preparazione strategica. Se poi vuoi saperne di più sulla mia pregressa esperienza da docente, autrice e formatrice nei TFA, nei corsi di aggiornamento per i docenti, allora dai un'occhiata al sito, questo è il link. Nel video sulle prime 5 novità ti ho parlato di nessun esonero dalle discipline, condizioni dell'orario ridotto, distinzione del percorso didattico solo per il secondo ciclo, condizioni per il rientro al percorso personalizzato sempre nella secondaria e valutazione. Se non lo hai ancora visto puoi farlo alla fine di questo poiché troverai il link fra i video consigliati. La prima novità di cui ti voglio parlare riguarda ancora il gruppo di lavoro operativo, in particolare la sua composizione. A proposito, se non l'hai vista ti consiglio sui gruppi di lavoro per l'inclusione di guardare la serie presente nel canale e troverai naturalmente tutti i gruppi di lavoro per l'inclusione compreso il GLO. La notizia che fa contente le famiglie è che la loro partecipazione non sarà più in qualità di membro che collabora ai lavori del GLO, bensì in qualità di membro partecipante a pieno titolo. La novità sembra rispondere più alle pressioni delle associazioni delle famiglie, dei genitori, degli alunni disabili che altro, a cui sfugge probabilmente il fatto che la promozione abbia un risvolto più formale che sostanziale. Restano infatti a capo del consiglio di classe le determinazioni di natura didattica e di valutazione, a capo dell'unità di valutazione multidisciplinare, valutazioni di natura sociosanitaria e alle famiglie naturalmente le scelte educative nell'ambito di propria competenza. Un'altra novità riguarda il venir meno delle figure interne specialistiche, ovvero lo psicopedagogista, ai lavori del GLO. A mio parere si tratta di un passo indietro, soprattutto considerando proprio le origini del processo di integrazione e quanto le componenti psicopedagogiche interne alla scuola costituissero proprio il nucleo fondamentale dei primi gruppi di lavoro. All'epoca erano gruppi di lavoro handicap, ma insomma i gruppi di lavoro per l'inclusione. Ve ne ho parlato e l'ho approfondito proprio nel mio saggio Storia dell'inclusione scolastica in Italia, a cui puoi far riferimento poiché lo trovi in tutte le librerie anche online. Un'altra novità è che viene chiaramente esplicitato che fra le componenti specialistiche esterne vi siano anche gli assistenti specialistici e quindi sia quelli all'autonomia che alla comunicazione. Colgo l'occasione di questa esplicitazione che ritengo possa essere utile proprio per fare chiarezza e che gli assistenti specialistici hanno funzioni e competenze diverse rispetto all'insegnante specializzato nelle attività di sostegno. Inoltre gli assistenti sono figure esterne all'istituzione scolastica pur operando all'interno di essa. La confusione fra queste due figure può generare la scorretta e illegittima attribuzione di funzioni e responsabilità agli assistenti che non sono di loro competenza. Non entro nel merito di tutte le questioni operative specifiche poiché ci vorrebbe un corso a sé solo per queste. La seconda novità riguarda l'esplicitazione della corrispondenza fra le dimensioni, le quattro dimensioni presenti nel PEI e i quattro domini che saranno presenti sia nella certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica sia nel profilo di funzionamento secondo le nuove linee guida di cui vi ho parlato nel video di aggiornamento del 2022. Come vedete nella tabella di corrispondenza fra dimensioni e domini possiamo considerare questi come delle aree di funzionamento del soggetto. E se andiamo a vedere bene le prime tre aree, ovvero l'apprendimento, la comunicazione, la relazione e socializzazione, sono tre aree individuate come prioritarie nello sviluppo già dalla legge 104 del 92. E infatti l'articolo 12,3 recita l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Mentre per la quarta area di sviluppo, ovvero l'autonomia personale e sociale, bisognerà far riferimento più che altro alla definizione di connotazione di gravità che in genere appunto ne riduce l'autonomia del soggetto in maniera significativa e quindi all'articolo 3,3 della già citata legge 104 del 92. La terza novità, se per caso ce ne fosse stato bisogno, è l'esplicitazione del fatto che qualora a scuola non fosse presente il profilo di funzionamento, ci si potrà avvalere in via provvisoria della diagnosi funzionale o dell'eventuale profilo dinamico funzionale, sempre qualora siano stati redatti. Quindi è una ammissione implicita del fatto che le linee guida sul profilo di funzionamento sono state emanate dopo l'emanazione del nuovo PEI, per cui si farà riferimento alla documentazione precedente, ma implicitamente si ammette il fatto che la scuola potrebbe non avere in mano, quindi ai propri atti, alcun documento sanitario, ma che ciò non significa che non si debba procedere al PEI e quindi si procederà anche senza documentazione sanitaria. Come peraltro vi avevo già dato indicazioni in tempi non sospetti in questo video, PEI senza profilo di funzionamento o diagnosi funzionale, una nota ministeriale del 2023 ci esplicita proprio che sarà necessario più che altro trovare un raccordo fra la documentazione clinica presente agli atti della scuola e il PEI nell'ottica biopsicosociale su cui si basa la classificazione internazionale, l'ICF, a cura dell'OMS. Per questo a mio parere è fondamentale cogliere la cornice generale dell'approccio biopsicosociale piuttosto che fossilizzarsi sui singoli e continui provvedimenti legislativi che rischiano di invischiarci in un'applicazione troppo rigida ed essere poco operativi e funzionali. E a proposito di rigidità, uno degli aspetti più contestati del PEI-CF era stato il legame vincolante che si era creato fra la rilevazione del debito di funzionamento di un determinato alunno e quindi la rilevazione del fabbisogno di sostegno e la richiesta di un numero di ore di sostegno adeguato che però doveva rimanere all'interno di un intervallo di ore molto preciso e ben determinato e questo naturalmente andava ad imbrigliare la capacità di valutazione del singolo GLO sul singolo caso e sul singolo contesto, non potendo svincolarsi da questo intervallo. Bene, questa rigidità è stata confermata salvo che è stata modificata la dicitura e infatti dalla locuzione debito di funzionamento che ci richiama tutta una terminologia aziendale a cui ha fatto fortemente riferimento la scuola negli ultimi vent'anni si passa al più politicamente corretto supporto di funzionamento altra precisazione riguarda la parola contesto in cui viene esplicitato che si intende per contesto non solo quello fisico ma anche quello organizzativo e relazionale nulla quindi cambia in sostanza riguardo al supporto di funzionamento e alla richiesta di risorse di sostegno anzi viene esplicitato che il fabbisogno di sostegno si potrà rilevare non solo sul profilo di funzionamento e suo aggiornamento che potrebbe non essere presente agli atti della scuola ma anche sul verbale di accertamento della disabilità naturalmente tenendo conto delle difficoltà che si sono manifestate durante l'anno in corso non possono mancare le novità ovviamente riguardo al processo di digitalizzazione della documentazione dell'amministrazione pubblica per cui l'annunciata piattaforma informatica Sidi per compilare anche il pay online è stata avviata seppur in via sperimentale per le scuole statali che vi hanno aderito già dallo scorso anno scolastico quindi nell'autunno del 2023 si trattava però di una funzionalità ancora non obbligatoria e quindi riservata proprio alle scuole che vi avessero aderito poiché la partizione separata dell'anagrafe degli studenti con disabilità consentiva il trattamento dei dati sensibili degli alunni con disabilità dati che adesso sono diventati dati particolari solo per le scuole statali e non ancora per le scuole paritarie qualora vi fossero delle novità per quest'anno in corso ve ne darò sicuramente aggiornamento a cominciare dalla community sicuramente ci saranno dei video di aggiornamento sul processo di digitalizzazione relativamente anche agli alunni con disabilità e quindi al pay vi specifico però un aspetto importante anche le scuole che abbiano già partecipato alla sperimentazione lo scorso anno hanno avuto la possibilità di caricare il pay già compilato in formato pdf direttamente sulla piattaforma piuttosto che compilarlo direttamente online tra l'altro se avete bisogno dei modelli aggiornati potete scaricarli dalla guida alla compilazione al pay che è una guida continuamente aggiornata alla normativa che man mano viene emanata trovi il link della mia guida gratuita nella descrizione di questo video quindi cliccando sui tre puntini o su altro bene ti invito a lasciare un bel emoji sole come segno di riconoscenza e per promuovere la creazione di nuovi video come questo e di condividere questo con i colleghi interessati sono sicura che te ne saranno grati qui accanto i video consigliati da diversi tutti quello sulle prime cinque novità sul pay icf quello sulla cornice bio psico sociale infine un video su l'uso dei social da parte dei docenti e le nuove regole e il logo di diversi tutti per iscriverti al canale grazie per l'attenzione un caro saluto a tutti e alla prossima